eccoci qua ragazzi eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua c'è tanto di cui parlare c'è tanto di cui discutere disquisire e da analizzare fatevi prima salutare ho l'ermanito sono gia7 quello che tiene le tette le racchette le lavagnette le rocchette non le manette perché non ho le mitragliette da anche la intro più cringe e meno divertente di tutta youtube italia e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di calcio mercato parliamo di voci di mercato parliamo di mario ermoso parliamo di buongiorno parliamo di chiesa in realtà neanche tanto e parliamo del prossimo allenatore del napoli perché c'è una notizia importante che appartiene che è di al alfredo vedulla ha fatto un bel diciamo editoriale se lo vogliamo chiamare così in cui parla sia di fonseca al milan che di tiago motta la juve ma soprattutto di antonio conte al napoli arriveranno presto molto presto i giorni delle firme e degli annunci di tiago motta la juve non parliamo più siamo sazi anzi prendiamo le distanze da chi sostiene ancora 29 maggio salvo clamorose sorprese sorprese sarà lui sì certo cambieranno idea nelle prossime 48 ore toccherà milan e napoli paolo fonseca in rosso nero e antonio conte all'ombra del maschio angioino poi c'è tanto in cui parla di fonseca e poi conte a napoli è l'esatto contrario una scintilla che si accende una tifoseria intera che respira dopo una stagione maledettamente negativa verissimo perché napoli ha vissuto una stagione imbarazzante antonio conte e sarebbe una luce esattamente ciò che occorre per la rifondazione per ritrovare il sorriso certo prendere conte con son occhio dalla testa e non andremo troppo lontano con i bonus dai 10 milioni a stagione per un contratto triennale quindi vuol dire che de laurentis veramente questa volta ha capito di aver sbagliato e che vuole sopperire a tutti gli errori fatti quest'anno nessuno capirà mai compresi da opositare della verità i frequentatori delle segrete stanze per quale motivo il milan abbia deciso di non approfondire con don antonio vi diranno che è stata una questione di ingaggio ma qui il tifoso medio potrebbe irrigidirsi ancora di più pioli merita l'onore delle armi il sorriso anzi lo stagione è stato a brividi ma sinceramente non si capisce quale sia il vero salto passando da pioli a fonseca su questo non sono estremamente d'accordo perché penso che pioli abbia finito un ciclo penso che sia un allenatore valido non un allenatore che vorrei a napoli però penso che fonseca dal punto di vista tattico possa dare quel qualcosina in più invece anche un bimbo di cinque anni ha intuito quale sia la differenza tra tantissimi allenatori e conte questo è verissimo un salto esponenziale come ripartire dalle fondamenta per ricostruire un palazzo rollato lukaku chiesa buongiorno la grana di lorenzo che vuole andar via o c'è la juve eventuali e varie una cosa per volta adesso conta solo l'insediamento in pompa magna di antonio dalicce questa dovrebbe essere ragazzi la settimana decisiva per vedere effettivamente antonio conte alle pendici del vesuvio per vedere il tweet presidenziale ripeto io finché non vedo il tweet presidenziale lo continuerò a dire non voglio illudermi non voglio credere che sia effettivamente così ma al contempo io penso che se alla fine dovesse arrivare antonio conte tutto quello che si è fatto finora sia stato un grandissimo teatrino almeno per la maggior parte perché penso che uno come antonio conte innanzitutto non sia uno che aspetta maggio il 29 maggio per sapere che squadra le era e penso al contempo che darebbe una spiegazione a quello che ha fatto il napoli in questa stagione la scelta degli allenatori del napoli in questa stagione anche perché poi la maggior parte delle redazioni parla di antonio conte già a coordinare il mercato del napoli antonio conte già che dice quello che bisogna fare in casa in casa napoli anche buffon buffon ha detto letteralmente che conte è l'uomo migliore per per questo napoli il binomio perfetto che conte da città piazze come napoli estrapola tutta l'energia e la fa sua e che riesce a dare il meglio come napoli potrà far dare il meglio invece ad antonio conte questo invece quello che dice capello conte deve recuperare il valore del napoli l'ha perso e non è nessuna coppa aspetto che lo favorisce lavorerà solo sul campionato e coppitalia un pensiero in meno incontrerà grandi difficoltà sicuramente incontrerà grandi difficoltà ma il fatto di non giocare le coppe europee per uno come conte sono sicuro che sia assolutamente un vantaggio poi passando alla questione relativa al calcio mercato che come dicevo da quello che dicono la maggior parte di loro è effettivamente coordinato dal signor antonio conte si parla di due acquisti e non uno importante in difesa si tratta di mario ermoso secondo il ciringhito mario ermoso andrà via dall'atletico madrid a parametro zero e giocherà in italia nella prossima stagione io onestamente penso più inter perché c'è l'inter fortemente sulle sue tracce ed è un acquisto proprio alla marotta perché parliamoci proprio l'acquisto classico alla beppe marotta però orazio a comando di da sonno che uno molto va molto preparato per quanto riguarda il calcio mercato l'altra società che ha fatto un sondaggio con l'anturace di ermoso e la roma ma ad oggi il napoli è quella più avanti per il difensore spagnolo non parla neanche dell'inter io ripeto che secondo me l'inter in questa trattativa qua è quella che avrà la meglio anche perché l'inter è quella che ha più appeal giocherà la champions league non avrà magari la disponibilità economica che ha il napoli perché napoli ha oggettivamente una disponibilità economica maggiore dell'inter però l'inter è l'inter l'inter storicamente è molto più importante l'inter storicamente quella che ha sempre vinto l'inter è quella che ha vinto lo scudetto quest'anno ed è quella che giocherà la champions league l'anno prossimo prossimo probabilmente puntando a rivincerla quello che magari non può garantire al 100% l'inter a mario ermoso che il napoli può garantire tralasciando l'ingaggio perché ripeto il napoli è più economicamente florido del dell'inter è un posto da titolare perché comunque nel napoli mario ermoso sarebbe titolare imperatore presidente e della difesa azzurra e c'è anche la roma e devo dire che questo è anche un acquisto molto alla a essere una però oltre a mario ermoso il napoli sta cercando ancora un altro difensore e per quanto si stia dicendo che probabilmente conte potrebbe venire a napoli magari ipotizzando un'eventuale difesa 4 invece una difesa 3 cosa che su cui non sono perfettamente d'accordo poi se lui è convinto di questa cosa si è voluto un aggiornamento tutto quello che volete voi ok però io voglio che conte venga a napoli con le sue idee che sia convinto del suo progetto che vuole fare 3 4 3 3 5 2 che faccia quello che lui desidera di fare però tutti questi difensori effettivamente mi fanno pensare ad una difesa 3 di mario il napoli insisterà per buongiorno perché il club deve comprare due difensori almeno quindi magari napoli potrebbe andare a spendere tanti soldi per buongiorno e poi andare su un parametro zero come ermoso che poi ti andrebbe a costare qualcosa di più sullo stipendio su buongiorno c'è anche l'inter il che non mi sorprende che però deve prima capire che disponibilità avrà sul mercato al di là delle cessioni su buongiorno dunque è inter napoli e anche qui io vi faccio lo stesso discorso se dovesse essere una scelta inter napoli qualsiasi calciatore senziente sceglierebbe di andare all'inter perché in questo momento l'inter è a un livello oggettivamente l'inter è sempre stato a un livello superiore rispetto al napoli a livello di nome a livello di rosa a livello di appeal e tutte queste cose qua anche dopo lo scudetto del napoli l'inter aveva un appeal maggiore rispetto al napoli perché l'inter è l'inter è il napoli il napoli con tutto il rispetto che io sono tifosi del napoli amo il napoli ma è così però magari il napoli può convincere effettivamente buongiorno col progetto col fatto di avere antonio conto con i difensori sappiamo com'è fatto e buongiorno mi sa proprio di quel difensore all'antonio conte che lui dice questo è quello che voglio io e mi devi portare lui a tutti i costi e te lo fa rendere in una maniera impressionante ed eccezionale però ripeto queste cose queste situazioni le fa il mercato del mercato a dire se poi sarà buongiorno ad arrivare se sarà buongiorno a preferire noi o l'inter chi lo sa in ogni caso il napoli sta lavorando e sulla questione antonio conte bisogna attendere bisogna attendere c'è chi dice due giorni un giorno 24 ore 36 ore 5 giorni pare che comunque è una questione solo burocratica speriamo bene speriamo che non si concluda lì speriamo che non non sia una roba non siano ostacoli troppo grandi però sembrano essere tutti fiduciosi sulla buona riuscita di questa operazione detto ciò ragazzi mi raccomando fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale in descrizione troverete facebook instagram twitter tutto quello che volete sarà lì giù troverete anche g7 shorts magari un pubblico teleclippo commenti iconici momenti divertenti del canale tic toc preferiti noi ci vediamo la prossima volta sempre e comunque tutta la vita forza ciao ciao ciao